Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo presso il plesso scolastico di Borgata Costiera. Ringrazio l'ingegnere Marino, ringrazio l'amico Renzo Mezzapelle, ringrazio la dottoressa Vitta Giovanna, sono dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Boscarino Castiglione che comprende anche il plesso di Borgata Costiera. Ringrazio anche l'amico Ciccio Salvo. Oggi siamo qui per fare la consegna ufficiale di questo presidio sanitario salvavita che è un defibrillatore. Come sappiamo la festa del pane e della pasta nel corso degli anni si è contraddistinta nell'ottica dell'inclusione sociale e quest'anno nell'ottica dell'inclusione totale. Poco tempo fa, circa un mese fa, abbiamo donato un presidio sanitario come defibrillatore alla Scuola Caccio del Mazzato Emila grazie all'ortotecnica. Oggi, grazie alla famiglia Salvo, al laboratorio di analisi Salvo, siamo qui a donare a questo presso scolastico, ma soprattutto anche a tutta la comunità di Borgata Costiera questo importante strumento salvavita. Il nostro obiettivo è quello di fare sentire sempre le periferie al centro del progetto. Borgata Costiera è un punto di riferimento importante. Ho sempre detto che è bello vivere in centro, è bello godersi il centro, ma è pure bello vedere il centro dalle periferie. Si vede anche il disagio o la differenza sociale. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio il laboratorio Salvo per questo nobile gesto, ringrazio l'Unione Nazionale Macarabinieri che organizza l'evento, di cui io oggi mi onoro di rappresentare, ma ringrazio tutte le persone qui intervenute. Il nostro obiettivo è sempre quello di cercare di fare qualcosa di importante attraverso il dono, mettendo il cuore al primo posto per un'intera comunità che di nome fa Mazzara del Vallo. Grazie, passo la parola al dirigente scolastico. Grazie, ringrazio tutti voi, ringrazio il dottore per l'omaggio che ha fatto a questa scuola del debbillatore. E questa è una cosa molto importante, come si diceva poc'anzi, proprio perché è un bene messo a pannaggio della comunità. E la comunità scolastica è una comunità che dialoga con il territorio. Il nostro plesso, il plesso di Borgata Costiere, è inserito nel circuito delle piccole scuole dell'Indire. E accetta con vero piacere questo omaggio, perché questo è un asilio salvavita molto importante. E poi questo perché sicuramente noi riprenderemo un corso di formazione per i nostri operatori scolastici, siano essi docenti, sia collaboratori scolastici, affinché si abbiano tutte la preparazione per essere utili utili a un pronto intervento, speriamo non ce ne sia di bisogno, di BLSLD, cioè di Basic Support Life Defibrillation. Quindi a breve anche questo corso sarà fatto. Il defibrillatore, come vuole la norma, come vuole anche il buonsenso, sarà messo a disposizione in posti visibili, raggiungibili e fruibili. Tutte le persone che speriamo, sottolineo, non abbiano di necessità, ma è importante che vi siano, perché dalle indagini statistiche dell'INA e delle altre strutture del mondo della sanità, si sa che veramente un pronto intervento può salvare la vita. E quindi accettiamo di buon grado questo. Io vi ringrazio, vi ringrazio del dono, vi ringrazio di aver scelto la nostra scuola, di questa nostra piccola comunità di cui andiamo fieri, e con i quali speriamo anche di contribuire attraverso anche questo tipo di collaborazione per tutta questa borgata costiera, tant'è che la nostra scuola è in questo circuito di piccole scuole indire che mirano appunto alla formazione e alla valorizzazione dei piccoli borghi e dei piccoli centri. Formazione culturale, valorizzazione del personale, che ovviamente non può che avere una ricaduta sui nostri alunni e su tutto il personale che si adopera per la crescita di queste piccole realtà e belle realtà. Grazie dell'invito, grazie a tutti voi e buon proseguimento dei lavori. Grazie. Io vi ringrazio anche per la disponibilità che avete avuto, ci avete concesso anche l'edificio scolastico per questa importante manifestazione e questo anche nell'ottica della collaborazione. Passo la parola a Francesco Salvo che ha donato questo importante defibrillatore. Vabbè, due parole veloci veloci. Noi, quando l'amico Francesco ci è venuto a trovare per chiedere un aiuto economico come sponsor per questa manifestazione, abbiamo preferito donare una cosa che sia più utile che resti anche in futuro, già l'avamo fatto una cosa analoga tempo fa per l'associazione calcistica Aurora dove ci sono tanti bambini, le scuole calcio e abbiamo voluto ripetere la stessa donazione in occasione di questa manifestazione e di questa sagra e anche per la scuola e per tutta la borgata costiera. Quindi tutto qui. Grazie. Passo la parola all'ingegnere Marino che cura tutto il piano sicurezza, emergenza e evacuazione di borgata costiera. Allora, io ritengo che questo sia uno dei momenti più importanti di tutta la manifestazione dell'evento che noi stiamo facendo, che è il momento proprio di integrare la scuola territorio e la donazione da parte della famiglia Salvo di questo kit è importantissimo che è un momento fondamentale a quello che può essere la vita futura della borgata perché è un momento di avere un attrezzo del genere, una borgata a distanza da circa 6 km dal centro ospedaliero è importantissimo. E queste manifestazioni che benvengano in questo, quando vengono a rappresentare e a donare degli attrezzi di questo tipo è per la società e per tutta la comunità un bene importante. Grazie. Passo la parola all'amico Pietro Marino che è uno degli sponsor ufficiali della festa del pane alla pasta diciamo che è uno sponsor dell'eccellenza. Grazie Francesco, grazie a tutti voi. Io sono sempre fiero e orgoglioso perché per l'ennesima volta come dire, le imprese, la famiglia di Salvo anche si è presentata, ha dato la disponibilità non è la prima donazione che abbiamo fatto quest'anno con la festa del pane alla pasta io d'impresa sono fiero e orgoglioso di rappresentare, tra virgolette, tutte le imprese che hanno contribuito a questa bellissima manifestazione che naturalmente inizierà ufficialmente domani lo ricordo a tutti, 7, 8 e 9, a continuare 10 e 11 e alla famiglia di Salvo ancora una volta a livello personale come impresa grazie di vero cuore per esserci stato e penso e mi auguro che ci sarà sempre come siamo stati nel futuro, nel presente e anche oggi e domani grazie di vero cuore a nome di tutte le imprese Concludo con la Polizia Municipale, Renzo Mezzapalle che è un punto di riferimento per la comunità di Borgata Costiera A nome della comunità di Borgata Costiera non posso fare altro che ringraziare sia la dottoressa sia il dottore Salvo per questo importante strumento che come diceva la dottoressa speriamo non debba mai essere usato ma che può essere importantissimo nel momento in cui per qualche malaurata o motivo dovrebbe necessitare